Venerdì di disagio a causa dello sciopero generale dei settori pubblici e privati proclamato dai sindacati in occasione della giornata internazionale della donna. La mobilitazione interesserà oltre ai trasporti anche il mondo della scuola e della sanità, dunque lezioni a rischio e possibili disservizi per quanto riguarda l'erogazione delle prestazioni nelle strutture sanitarie. ATM, l'azienda di trasporti milanese che gestisce anche la funicolare e como brunate, ha comunicato che non sono previste variazioni nelle corse, mentre sarà una giornata a rischio disagi per i passeggeri dei treni. Il servizio regionale e suburbano, la lunga percorrenza di Trenord e il servizio aeroportuale potranno subire variazioni o cancellazioni, si legge sul sito dell'azienda. Come di consueto saranno in vigore le fasce orarie di garanzia, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei servizi minimi garantiti. I treni con partenza prevista dalla stazione di origine entro le 23 e 59 del 7 marzo e con arrivo previsto alla destinazione finale entro la 1 arriveranno fino alla termine della corsa. Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra Milano-Cadorna e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto.